Inizia oggi la cosiddetta fase 2. È un abruzzo diverso quello in cui ci siamo svegliati questa mattina. Traffico lungo le strade, persone a spasso e negozi aperti. L'emergenza però non è ancora superata e limitazioni delle libertà personali sono ancora imposte da governo, regioni e comuni. La regola principale è sempre quella di evitare gli assembramenti. Gli spostamenti sono consentiti esclusivamente per motivi di lavoro o di necessità, ma si potrà far visita ai congiunti. Il Viminale specifica che per congiunti si intende coniugi, rapporti di parentela, affinità e di unione civile. Nonché le relazioni connotate da duratura e significativa comunanza di vita e affetti, anche se criteri per determinare l'affinità tra due individui e l'importanza della relazione non sono assolutamente chiari. È possibile spostarsi da una regione all'altra solo per comprovate esigenze lavorative o di salute. Chi arriva in Abruzzo è tenuto a informare l'autorità sanitaria e a misurarsi la temperatura corporea quotidianamente, avvisando l'ASL in caso questa superi 37 gradi e mezzo. Da oggi riaprono i negozi. In Abruzzo l'accesso alle attività commerciali è consentito ad una sola persona per famiglia. Riaprono anche i parchi, le ville, i giardini ed è ora consentita l'attività sportiva e motoria, senza più il limite della prossimità alla propria abitazione. Non sono però consentite le passeggiate, se non per recarsi in uno dei luoghi dove è possibile andare, come ad esempio in edicolo o dal tabacchino. Continueremo anche ad indossare la mascherina, questa è obbligatoria, fatta eccezione per i bambini fino a sei anni, in ogni spazio chiuso accessibile al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, ma anche negli spazi aperti dove non è possibile mantenere il distanziamento sociale, come ad esempio mentre si infila davanti al supermercato. Consentite anche le cerimonie funebri, ma esclusivamente per i congiunti e per un massimo di 15 persone, mentre le messe ordinarie per ora sono ancora bandite. Le misure adottate, si legge in una nota del Viminale, impongono di trovare un punto di equilibrio tra il primario obiettivo di salvaguardare la salute pubblica e l'esigenza di contenere l'impatto sulla vita quotidiana dei cittadini. Sostanzialmente però la vita quotidiana è al momento limitata agli allenamenti, al produrre e al consumare, in una fase in cui la cosiddetta normalità sembra ancora un miraggio.